bella a tutti ragazzi sono factor mode sono i compagni di christian sperando il secondo christian 94 65 cae 92 a lampini 123 dobbiamo rifare una bella partita in un campo stazione tutto tutto il tempo che sto giocando adesso due ore che sto giocando e neanche una partita bella tutto da schifo speriamo in questa speriamo e vabbè vediamo se va bene questa almeno questa dai buona visione prendete l'obiettivo ma c'è qualcosa da dire di okano minaccia rimossa fire break è eliminato minaccia risolta lo stazione persa nemico a terra postazione conquistata buon ciclo uno ce l'ha soldato a terra postazione contesta minaccia rimossa postazione localizzata i nemici hanno conquistato la postazione UAV in attesa di ordini sparito UAV in arrivo mandate un UAV qui da me parimetro stabilito porta 10.000 aziende UAV di disturbo alleato vo calcoler ai 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 su u scissi v k u v v ugol ah e all'alto postazione persa postazione localizzata avvio stile in sorvolo la postazione è nostra cento confermato lui ne ha perso la vita steso centrato combattente iper a terra combattente eliminato postazione localizzata i nemici hanno la postazione la postazione è nostra fantastico pan-pan-pan pan-pan-pan Turbo alleato in arrivo. La postazione è nostra. Postazione contesa. Centrato. Postazione localizzata. La postazione è nostra. UAV in arrivo. Postazione persa. Arriva un approvvigionamento alleato. Firebreak tomato. Talebra. Polo fulminante alleato in arrivo. Wap! Postazione persa. Soldato a terra. Postazione conquistata. Postazione persa. La postazione è nostra. Wap! 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 postazione conquistata soldato a terra postazione contesa la postazione nostra lo stazione contesa lo stazione per chiedon l'uab postazione conquistata la stazione contesa lo stazione persa colpa ai 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 sono stazione conquistata la stazione con Ai 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 Sherby si chiama quella Ciao baiiii Sono rovinati La postazione è localizzata La postazione è nostra Vai D'accordo Ci sono stati Ci sono stati Ci sono stati La postazione è stata La postazione è stata La postazione è stata Ooooo Mr. Doffman Lee Ulla, this is Skylax Pap 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 Postazione persa Soldato a terra Postazione conquistata Minaccia rimossa Postazione persa Postazione nostra UAB UAB, alleato in arrivo Postazione persa Anche se camperanno Ma lo fate Oh no gli spari Postazione localizzata, la postazione è nostra Postazione contesa, postazione persa QAV alleato in arrivo, pianto gravitazionale carico Postazione conquistata Postazione persa QAV di distrutto in arrivo Firebreak domato Questa è la stazione localizzata stato la posta postazione conquistata mamma mia mamma mia una rara livello 312 maestro attenzione o avvi nemico in arrivo puttana sto joystick veramente mi sto giocando a nervosire sarebbe bello che non riesco più a giocare sto joystick qui salto non riesco a sparare mentre salto e la madonna è arrivata la raffa che gli telecolpicano postazione conquistata ehi stavo giocando sto ricontando del mic sono tenuto a cagare della minchia al mio 8 a 7 no gioca cioè a me sembra oh ah 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 oh p stazione conquistata fuu no 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 è buona vinto ormai Mamma mia L'uccisione tripla che gli ho fatto No Danny Madonna Ma guardalo Che camper No Ma porca Che miseriazio 51-43 51-43 Un buon risultato Una partita un po' pessima Perché ci sono giocatori veramente assurdi Mister Doffman ha fatto 70-32 Tadenni 48 Poi vabbè non era un video così buona Facciamo che cose come la mia Perché io praticamente ho fatto schifo Usando pure Usando pure un armoire Comunque un armoire un po' Cioè ho usato una classe col BRM Mirino Hall E così Non è che proprio Vabbè Niente bella ragazzi Ci vediamo alla prossima Spero che vi sia visto il video Se vi piacciono i miei video Mettetelo mi piace E iscrivetevi alla mia pagina E iscrivetevi alla prossima